... Moniovadia ha aperto le danze in questa giornata, in questo teatro. Com'è andata intanto? Bene, mi sembra che ci sia della bella gente che non sopporta di vivere nell'illegalità di Stato, anzi di governo. Sono persone che sono determinate a fare l'opposizione a questo governo che vive intorno ai problemi di un solo uomo, che sta bloccando il paese e tutto il suo sviluppo intorno ai propri problemi e ai propri narcisismi e alla propria egolatria. Persone per bene, semplici, che dicono che vogliono vivere in una democrazia vera, non in una caricatura di democrazia. Il pubblico di Bologna comunque risponde sempre bene, no? E' una città civile con una grande tradizione, con un grande sentimento dell'indipendenza e dell'orgoglio, tutto con molto buon senso. Una breve fotografia del comportamento di questo governo, mi rendo conto che non sarà semplice, però alla luce anche di quello che sta accadendo, di questo inventato scontro fra procure che pubblicano i giornali. E' un governo che, diciamo, governa perché deve farlo, ma i suoi obiettivi non sono quelli di governare, ma di garantire i privilegi soprattutto di uno solo. Olivier Robea, qui a Bologna per questa serata dedicata all'informazione. Con questo governo, sembra quasi scontata la domanda, nel panorama giornalistico e informativo è cambiato qualcosa? Non è cambiato nulla? È peggiorato? È migliorato? È peggiorato per forza, perché l'Italia è su un piano inclinato e quindi per la forza di gravità se il piano inclinato rotola verso il basso. È successo con Berlusconi, poi con Prodi, poi con Berlusconi, poi con Prodi, adesso di nuovo con Berlusconi. L'Italia sta rotolando sotto gli occhi di tutti. L'informazione è uno dei tre angoli o dei tre lati del triangolo. Uno è l'informazione, l'altro è il potere politico-economico e il terzo è la magistratura. Quello che so, da quello che ho letto, da quello che mi è stato fatto sapere, sono dell'idea che assolutamente non si possa parlare di uno scontro di procure e che anzi farlo passare come scontro di procure sia un sistema per non far capire alla gente che cosa c'è sotto. Sotto c'è un magistrato come De Magistris che ha tirato fuori delle cose scottanti per il potere. Ed è andato tutto di conseguenza, come per la Forleo un anno e mezzo fa. E quindi sono quando vanno a toccare, chi tocca i fili muore. La conseguenza è questa. E io ho paura che la cosa vada a finire, questa della procura di Salerno, la procura di Catanzaro, del Presidente della Repubblica che chiede le carte e le pretende come Presidente della Repubblica e non come Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Peccato che sia sempre lui, quindi sembra una cosa, sembra una gag da un certo punto di vista istituzionale. Anche se è tutto normale. Ma insomma, vada a finire in un'unica direzione. Che il dossier finirà a Roma. E Roma, se non sbaglio, se non gli hanno cambiato nome, lo chiamano il porto delle nebbie. La rete, a suo avviso, può dare un contributo? Lo sta dando nelle coscienze degli italiani oppure no? O è ancora presto? Dunque, sta dando sicuramente un contributo, è una via d'uscita, alla sensibilità e alle coscienze degli italiani ci vuole, temo, un pochino più di tempo, un pochino più di rete, deve prendere ancora più cazzotti l'italiano, se no non ragiona. E indipendentemente da Berlusconi, non lo sto dicendo contro Berlusconi e a favore di Veltroni o di D'Alema, lo sto dicendo in generale a scanzo di equivoci. E credo che non basti, ma credo che sia sufficiente a impaurire, a impensierire il potere, se già circolano le voci che di nuovo Berlusconi, come prima Prodi, il governo Prodi, vuole mettere mano ai blog. Aldo Pecora, qui a Bologna, per questo dibattito sulla mafia, tu sei calabrese? Sì. Insomma, come si vive in Calabria? In Calabria si vive come in tutta Italia. Si vive in una regione bellissima dove pochi delinquenti fanno parlare male di noi. Questi delinquenti non sono solo i mafiosi, io lo dico sempre. Ci sono una serie di connivenze che fanno forte l'andrangheta. In Calabria il problema è la politica, troppo debole, l'economia troppo connivente e il sistema di potere è gestito dalla massoneria più o meno deviata. Quindi hai più commissariati, anzi hai meno commissariati di polizia e caserme dei carabinieri che logge massoniche in Calabria. Ormai uno scontro fra procure, un caso nazionale, forse De Magistris aveva inciso bene con quel bisturi e forse De Magistris aveva toccato dei nervi scoperti o dei fili scoperti. Ai calabresi manca De Magistris o non se ne sono accorti? Allora, io parlo con molta schiettezza. I giovani sono sicuramente vicini a De Magistris, continuano a seguirlo, seguono il suo lavoro, il suo operato, De Magistris è vicino alla Calabria. Gran parte della Calabria vorrebbe dimenticarselo perché uno come De Magistris è meglio portarlo via da una regione dove ci sono tanti problemi da nascondere. Ciò non vuol dire che però le giovani generazioni non si siano comunque soprattutto schierate non tanto con lui quanto per quelle cose che lui diceva. Cioè, why not? La conoscono anche i ragazzi di 15-16 anni, quindi è una cosa molto importante. Conoscere i nostri polli e dobbiamo ringraziare Luigi De Magistris. Grazie a tutti.